E' stato il presidente della regione Mario Liverio a tagliare il nastro per la riapertura dell'ospedale civile di Praia Mare. Un gesto simbolico a suggellare anni di battaglia. Cinque dalla chiusura, tre dalla temperanza della sentenza del Consiglio di Stato che dichiarò illegittima la riconversione a casa della salute. Un ospedale di confine con un'utenza di quasi 65.000 abitanti, un'area vasta e distante chilometri da altre strutture ospedaliere, numeri e distanze che si triplicano nella stagione estiva. Tutti elementi che nel 2010 non furono tenuti in considerazione e che non hanno smosso neanche Scura. E poi quattro commissari nominati per la risoluzione, ma è Eugenio Sciabic a firmare l'atto esecutivo della riapertura. Quindi sostanzialmente una particolare attenzione ai bisogni di salute delle persone, ancorché alla questione dell'emergenza-urgenza. e maggiore attenzione a quelle che sono le esigenze del territorio in ambito sanitario. Abbiamo già in sede di adozione del provvedimento, abbiamo già individuato quella che sarà la dotazione di servizi in termini di risorse umane e di struttura dell'ospedale, quindi senza altro sarà l'ASP a delineare gli aspetti tecnico-organizzativi. Abbiamo superato i 300 milioni di unità, registrando il 30% di aumento fuori regione. Le liste di attesa sono cresciute, così come i costi. La qualità delle prestazioni si è indebolita, un blocco del turnover con 4.000 unità in meno rispetto al 2010. Il risultato di questa gestione è drammaticamente pagato dai calabresi. Queste alcune delle considerazioni del Presidente Oliverio. È stata una battaglia che ha visto in prima linea il sindaco di Praia, Antonio Praticò, che ha visto la popolazione di Praia, il sindaco di Tortora, gli amministratori locali di tutta la zona, per affermare il diritto di queste comunità ad avere un presidio ospedaliero, come appunto presupposto di tutela e di cura della salute. Sono molto contento qui oggi di esserci e naturalmente questo è il primo passo di un percorso perché chiaramente oggi si avvia la riapertura dell'ospedale di Praia e via via che andremo avanti saranno anche irrobustiti e consolidati i servizi all'interno della struttura ospedaliera.